Ed eccoci insieme in diretta sempre sulle frequenze di RBA Radio Bequite Evangelica do subito il buongiorno, il benvenuto, il buon pomeriggio alla nostra ospite ovvero Ilaria Testa dell'Ufficio Beni Culturali della Tavola Valdese Ilaria è venuta a parlarci delle giornate del patrimonio culturale metodiste valdese Ciao Ilaria, bentornata Grazie, grazie e buon pomeriggio a tutte e tutti sono molto contenta di essere qua finalmente di persona Eh sì, questa è la bellezza di questi ultimi periodi in cui riprendiamo un po' di confidenza anche con quella che era la normalità un tempo ma adesso sta diventando, era diventata insomma un po' la possibilità extra adesso piano piano ci stiamo rimettendo in linea con questo bel modo di chiacchierare in studio ci prendiamo e manca solo la tazzina di caffè di te per una bella chiacchierata Allora Ilaria ci parla delle giornate del patrimonio culturale metodiste valdese io ho trovato anche un piccolo volantino che in effetti mi avevano lasciato qualche tempo fa e faccio vedere velocemente a chi ci sta guardando in tv tramite il canale 87 del Digitale Terrestre le date sono l'11 e il 12 marzo, quindi tra pochissimo Sì, manca poco a questo appuntamento, ne stiamo parlando veramente da tanto il volantino che hai fatto verdere, anzi è il volantino che abbiamo distribuito durante il sinodo di agosto Era un po' il lancio così la novità Esattamente, l'idea era proprio di iniziare a far conoscere questa iniziativa a tutte le persone che sono intervenute appunto ai lavori del sinodo per iniziare un po' a dire guardate che ci sarà questo momento e quindi iniziate a pensare perché è un evento che vuole coinvolgere e vede come protagonisti e protagoniste proprio le chiese e le realtà che sono su tutto il territorio nazionale dico le chiese ma in realtà allargo il discorso perché siccome si parla di patrimonio culturale, metodista e valdese l'intento è anche quello di coinvolgere gli istituti, le biblioteche, gli archivi quindi tutti i soggetti che in qualche modo hanno a che fare con il nostro patrimonio e quindi in quella situazione abbiamo iniziato a dire pensate a cosa potete fare in quel weekend dell'11 e 12 marzo che ormai è arrivato e alle porte e in effetti grazie anche al supporto insomma una serie di materiali che poi l'ufficio beni culturali della tavola valdese ha messo a disposizione alle varie chiese, alle varie comunità molte realtà hanno organizzato, stanno organizzando delle iniziative proprio in questo weekend 11-12 marzo l'obiettivo è quello di aprire le porte giusto a chi vorrà conoscere qualcosa delle chiese protestanti sia a chi lo conosce già e sia invece a chi magari ancora non sa nulla esattamente, l'idea era proprio quella di creare due giorni dedicati al patrimonio e creare una sorta di scatola diciamo così entro cui inserire tutte le iniziative e le idee che appunto saranno messe in campo in quei due giorni porte aperte è stato un po' lo slogan che abbiamo usato per questa prima edizione del 2023 e vuole proprio significare l'idea che appunto queste realtà spalanchino le proprie porte al pubblico e si facciano conoscere quindi come si diceva appunto due giorni in cui si può finalmente scoprire anche qualcosa di inaspettato rispetto a quello che è un utilizzo magari anche diverso dal solito esatto, infatti noi diciamo che queste giornate sono rivolte sia alle comunità quindi alle persone che in qualche modo già vivono tutti i giorni il patrimonio il patrimonio culturale ma anche a chi non ci conosce a chi non ha mai sentito parlare di noi quindi potrebbe essere effettivamente l'occasione per avvicinarsi di più a questa realtà quindi insomma un po' di fantasia per le modalità in cui sviluppare questa iniziativa di cui ci sta parlando Ilaria e tra l'altro iniziativa che nelle intenzioni vorrebbe diventare anche un appuntamento fisso quindi quest'anno è la prima volta, si inaugura, si rompe il ghiaccio però la volontà sarebbe proprio quella di riproporre nel periodo simile, uguale non so se proprio lo stesso periodo preciso però insomma nell'arco di tempo, immagino primaverile, questa opportunità sì, l'idea è proprio questa che si crei una sorta di appuntamento fisso ogni anno proprio per fare sempre di più questa attività di valorizzazione appunto del nostro patrimonio come periodo, allora la scelta del weekend non è stata semplicissima perché comunque inserirsi all'interno di un calendario che è quello delle chiese, già abbastanza ricco direi non è stato semplicissimo non so quindi dire se quest'anno è un esperimento un po' per tutti anche per noi assolutamente quindi se effettivamente resterà più o meno questo periodo oppure no certo l'idea di avere un po' l'appuntamento fisso aiuta però insomma vediamo, vediamo anche come va quest'anno per il momento devo dire c'è comunque un entusiasmo che insomma ci ha fatto molto piacere sono arrivate tantissime proposte da tutto il territorio nazionale quindi anche questo insomma sintomo di voglia di veramente aprire le proprie porte e ci sono tante cose belle che verranno in qualche modo organizzate ci saranno concerti, visite, percorsi, accoglienza fatta veramente in tutti i modi persino lo dico qualcuno ha pensato a dolci e tè per veramente creare una situazione un aspetto conviviale esatto e quindi ci aspettiamo veramente grandi sorprese e speriamo anche una grande affluenza di pubblico certo questo è ovviamente l'augurio che si può fare, si può condividere e a me veniva in mente che magari qualche chiesa, qualche comunità quest'anno non ha saputo che cosa proporre non ha avuto magari la possibilità di organizzarsi beh insomma andando magari a vedere quello che hanno fatto gli altri perché non pensare di riproporlo al prossimo anno serve anche a questo, a non inventarsi niente di nuovo ma magari direi quella iniziativa non era così male magari il prossimo anno la potremmo riproporre qua da noi so che c'erano anche delle mostre ad esempio a disposizione che insomma come ufficio mettevate a disposizione proprio a livello itinerante quindi anche questa è una possibilità da tenere in considerazione per le prossime occasioni sì assolutamente abbiamo lavorato in questo senso insieme alla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice che ha messo proprio a disposizione alcune delle mostre che nel corso degli anni ha realizzato proprio per farle circolare quindi se una chiesa era interessata poteva chiedere e quindi nei giorni appunto dell'11 e 12 marzo esporrà queste mostre quindi anche lì è stata insomma una collaborazione devo dire molto fruttuosa bene Ilaria se qualcuno volesse sapere cosa si può vedere l'11 e il 12 marzo per le giornate come si può fare? allora intanto tenere d'occhio quelli che sono i nostri canali social perché noi pubblicheremo da domani in avanti tutta una serie di post per insomma raccontarvi che cosa sta succedendo abbiamo un video sempre in uscita domani un video promozionale su queste giornate che quindi insomma aiutano un po' a comprendere che cosa succederà e poi naturalmente il nostro portale www.patrimonioculturalevaldese.org e lì troverete tutto il calendario completo esatto di tutte le iniziative che sono state diciamo così proposte fino ad oggi perché in realtà se qualcuno avesse ancora intenzione insomma di partecipare effettivamente c'era una sorta di data ultima era la settimana scorsa però se qualcuno ancora in corsa vuole aggiungersi noi siamo ovviamente felicissimi e facciamo in tempo ad aggiungerlo ancora al calendario benissimo quindi segniamoci le date annotiamole sul calendario 11 e 12 marzo che sono un sabato e una domenica il prossimo weekend praticamente le giornate del patrimonio culturale metodista e valdese due giorni di porte aperte con tante possibilità di visita di fruizione dei luoghi delle possibilità che le nostre chiese i centri culturali le biblioteche gli archivi offrono e speriamo insomma che ci sia una buona una buona partecipazione Ilaria grazie per essere stata con noi ricordiamo il sito patrimonio culturale valdese.org il sito di riferimento e ovviamente tutti i canali social adesso legati quindi grazie buon lavoro a te e a tutto l'ufficio beni culturali della tavola valdese grazie grazie mille per l'ospitalità grazie mille per l'ospitalità ぐb